Bene, partiamo finalmente con la geometria e partiamo in realtà con dei concetti che sono un ripasso di quello che già abbiamo visto in scienze. Partiamo dalle grandezze e la grandezza indica tutto ciò che può essere misurato. Non è da confondersi con l'unità di misura che non viene definita sul vostro libro, quindi andiamo a cercarci su Wikipedia che cosa è l'unità di misura, è una quantità prestabilita che viene utilizzata come riferimento condiviso per la misura di quella grandezza. Cosa vuol dire un riferimento condiviso? Qualcosa su cui tutti, o quasi tutti, una certa parte della popolazione si è messa d'accordo. Si sono messi d'accordo così che tutti sappiano di che cosa parliamo. parliamo appunto di un'unità di misura e di una quantità prestabilita con cui possiamo confrontare una grandezza. Ad esempio, in questo caso, il segmento CD viene preso come unità di misura e lo possiamo confrontare con AB. Vedete che AB è lungo 5 volte CD, quindi se l'unità di misura si chiama U, AB è lungo 5U. Le grandezze si dicono omogenee o eterogenee in base al fatto che siano confrontabili o meno, cioè che si possano sommare oppure sottrarre. Se si possono sommare o sottrarre, per esempio, due lunghezze, io sicuramente dalla lunghezza di AB posso allevare la lunghezza di CD. AB era lungo, abbiamo determinato 5U, CD è lungo 1U, 5U meno 1U fanno 4U. Invece, non avrebbe senso provare a sommare o sottrarre due grandezze eterogenee. Ad esempio, non posso provare a sottrarre da 5U 14 kg, perché i kg sono unità di misura della massa, mentre le U sembra che siano appunto una unità di misura della lunghezza, di cui ci occupiamo poi alla pagina successiva. Nel sistema metrico decimale, che è appunto un sistema su cui molti si sono messi d'accordo e quindi è condiviso dalla stragrande maggioranza delle persone sulla Terra, per appunto il sistema metrico decimale, esiste un'unità che definiamo una unità principale e poi ci sono delle unità che invece sono secondarie. Queste unità secondarie si ottengono dall'unità principale, moltiplicandola oppure dividendola, vedete, per 10, 100, 1000 e così via. Le potenze del 10. E questo è il motivo segreto per cui appunto questo sistema si chiama decimale. Metrico invece deriva dal nome dell'unità di misura che viene utilizzata per la lunghezza, che è appunto il metro. Il metro è un decimo del decametro. Allora perché vedete questa freccina che indica per 10 e che va dai decametri ai metri? Beh, in realtà quella freccina indica il fatto che se io parto da un certo numero di decametri, per esempio ho 19 decametri in partenza, voglio convertirli in metri, devo moltiplicare per 10. 19 decametri sono 190 metri. Quando da una unità di misura più grande passo ad una più piccola, devo sempre ricordarmi di fare questa, effettuare questa moltiplicazione per 10. Se invece volessi passare dai metri ai decametri, per esempio ho 80 metri, voglio convertirli in decametri, dovrei dividere per 10. Quindi per passare dai metri ai decametri, divido per 10, 80 metri sono 8 decametri. Vedete anche indicate le altre unità di misura che appunto si dicono secondarie, che derivano dall'unità principale, che è il metro, il decimetro, il centimetro, il millimetro, poi si può anche andare più sotto quanto volete. Per passare dai millimetri ai metri, vedete che devo dividere per 10 tre volte. Ok? Infatti il millimetro è il millesimo di metro. Se ho mille millimetri, li divido per 10, ottengo 100 centimetri, li divido per 10, ottengo 10 decimetri, li divido ancora per 10, 10 diviso 10 fa 1, e quindi ottengo un metro. Ok? Il metro è quello che dà il nome, perché in questo caso sta subito prima della virgola. Quando abbiamo discusso di quello che dava il nome ai numeri decimali, avevamo detto che era la cifra nella posizione delle unità. Se in questo caso la cifra nella posizione delle unità si chiama metro, questi saranno 2,15 metri. Se avessi spostato la virgola di un posto avrei parlato di 21,5 decimetri. Se avessi spostato la virgola di due posti avrei parlato di 215 centimetri. A volte le altezze delle persone, per esempio, vengono date in centimetri. Una persona alta 1,78 metri si dice che è alta 178 centimetri. La superficie. La superficie che può essere misurata, e quando viene misurata, la misura della superficie, si dice area. L'area viene definita, l'unità di misura dell'area, il metro quadrato, viene definita a partire da un quadrato, cioè una figura geometrica che ha quattro latti tutti uguali e quattro angoli retti, tutti uguali fra di loro, e che ha il lato di un metro. Siccome stiamo moltiplicando un metro per un metro, diciamo che il risultato, uno per uno fa uno, l'aggettivo si moltiplica, ma si moltiplica anche il nome. Metro per metro farà metro alla seconda. Un po' come x per x fa x alla seconda. E questa, appunto, è l'area. È una misura della superficie. Viene utilizzata nel sistema internazionale, il metro quadrato, e vedete che ha sia dei multipli che dei sottomultipli. Però succede una cosa un po' particolare per il metro quadrato. Per il metro, quando volevo passare da un certo numero di metri, facciamo 81 metri, da 81 metri volevo convertirlo in decametri, abbiamo detto che mi toccava dividere per 10. Ma se adesso io volessi convertire dai metri quadrati ai decametri quadrati, non dovrei più dividere per 10, ok? Ho 124 metri quadrati. Siccome sono passato al quadrato, anche in questo caso devo fare il quadrato di 10, quindi devo dividere per 100. 124 metri quadrati non sono 12 i decametri, sono solamente 1,24 decametri quadrati. Ok? Questa divisione, anche questo fattore di divisione, è stato elevato al quadrato. Esattamente come lo sono state le unità di misura per passare da una lunghezza ad un'area. L'unità successiva vi parla del volume. Il volume, immaginate che cosa possa succedere quando aggiungo una dimensione in più. E quindi anziché di un quadrato con lato 1 metro, parlo di un cubo, che ha lo spigolo di 1 metro. In questo caso le misure scaleranno in maniera proporzionale e se qui il fattore di conversione per passare da chilometri quadrati ad ettometri quadrati si dicono anche ettari, probabilmente avete forse sentito questo termine quando si misurano i terreni agricoli, si parla spesso di ettari. Quindi un chilometro quadrato sono 100 ettari o anche detti 108 metri quadrati che a loro volta 100 ettari sono 10.000 decametri quadrati perché ho moltiplicato per 100, 100% fa 10.000 che a loro volta sono un milione di metri quadrati. Quindi in un chilometro quadrato ci stanno un milione di metri quadrati. Esatto. E quindi se invece sto parlando di cubi, un metro cubo se lo voglio trasformare in decametri cubi dovrò dividere a questo punto non più per 10, non più per 100 ma per 10 alla terza e quindi per 1000 e quindi verrà 0,001 decametri cubi. vedete che la divisione, questo fattore di conversione, questa... quest'ordine di grandezza cambia, scala con lo stesso fattore dell'esponente della mia unità di misura. Adesso passiamo proprio a vedere il volume e vedete che quando passate dai metri cubi ai decametri cubi dovete dividere per 1000. Al contrario, se passate dai chilometri cubi agli ettometri cubi dovete moltiplicare per 1000. un metro cubo sono 1000 decimetri cubi. Ok, questo è molto importante soprattutto per quanto riguarda le misure di capacità che vediamo fra un attimo. La differenza fra il volume e la capacità è che è essenzialmente inesistente, la capacità però viene generalmente riferita a dei solidi cavi, quindi al volume che sta all'interno di un solido, dentro un solido, quindi può tendere a misurare il volume di liquidi o di gas, ma non è detto, si può anche parlare della capacità, cioè parlare con unità di misura della capacità che sono i litri riferendosi a dei solidi e si può anche parlare di decimetri cubi o di metri cubi riferendosi a dei liquidi. Capacità e volume sono intercambiabili le unità di misura. Vedete che con il litro è un po' più facile lavorare rispetto al decimetro cubo e al metro cubo perché con i litri si passa di 10 in 10. Comunque sia, c'è un'unità di interconversione molto semplice e cioè un litro è uguale esattamente ad un decimetro cubo. Questo vi fa passare, se tenete a mente questa conversione, vi permette sempre di passare da litri a decimetri cubi se ne avete la necessità perché è un problema, vi chiede di trovare il risultato in termini di metri cubi o di decimetri cubi mentre voi partite da qualcosa che ha un'unità di misura in litri o in ettolitri eccetera. Quindi capacità importante da ricordare solamente che è il volume che si trova all'interno di un solido. Massa, ne abbiamo parlato lungamente in scienze l'unità di massa l'unità di misura di confronto per la massa viene tenuta rigidamente rigorosamente custodita come cilindro di platino in iridio nell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure che è l'ufficio che si occupa della gestione di queste unità di misura standard con cui tutte le altre misure possono essere confrontate perché se ci pensate è fondamentale avere uno standard è fondamentale avere qualcosa che definisca precisamente che cos'è il chilogrammo che cos'è il metro e così via il metro adesso si misura può misurare facilmente in tutti i laboratori basandosi sulla velocità della luce ma questa è una storia per un'altra volta il chilogrammo come vedete è l'unità principale per la massa ma ci sono anche delle unità secondarie derivate i multipli del chilogrammo anche se qui non vengono mostrati sono il miriagrammo che corrisponde a 10 chilogrammi il quintale che corrisponde a 100 chilogrammi e l'unico che viene invece mostrato è la tonnellata una tonnellata corrisponde a 1000 chilogrammi ok quindi per convertire da tonnellata a chilogrammo una tonnellata sono 1000 chilogrammi al contrario un chilogrammo sarebbero 0,001 tonnellate sotto multipli invece del chilogrammo sono letto o etto grammo di che grammo grammi decigrammi centigrammi milligrammi questo milligrammo è un milionesimo di chilogrammo 1,2,3,4,5,6 6 step per arrivare al chilogrammo 10 alla 6 è proprio un milione quindi se ho un milione di milligrammi so che formano un chilogrammo abbiamo visto che milligrammi molto utilizzati in medicina per parlare soprattutto di quantità molto piccole se vi ricordate perché dire 0,1 o 0,2 grammi la differenza ci sembra poco però magari per alcune sostanze il dosaggio è molto preciso e abbiamo bisogno per renderci conto psicologicamente della differenza di parlare magari di 100 milligrammi e 200 milligrammi stiamo dicendo la stessa cosa ma lo stiamo dicendo con dei termini che ci fanno più rendere conto del significato della differenza la densità su questa ci siamo dilungati ampiamente vedete questo signore che ha difficoltà a sollevare questo blocco mentre questo che ha esattamente lo stesso volume lo tira su senza problemi questo è fatto di sughero questo è fatto di ferro quindi due materiali differenti sono caratterizzati da una densità differente a parità di volume hanno una massa diversa per la massa vedete sotto indicate queste tre formule in realtà io vi scoraggio fortemente da ricordarvele tutte e tre basta ricordarsi la definizione di densità la densità è la massa diviso il volume e a partire da questa si possono ricavare tutte le altre per esempio se voglio trovare la massa da questa parte mi basterà cancellare il volume come cancello un volume da un denominatore devo moltiplicare per un volume perché se divido per volume e poi moltiplico per volume è come se non avessi cambiato niente se divido e poi moltiplico per la stessa quantità riottengo la massa però se ho moltiplicato per volume di qua non posso fare solo questo da una parte e dall'altra dell'uguale devo moltiplicare per la stessa cosa e a questo punto sono sicuro di aver ottenuto lo stesso risultato quindi la massa è uguale al volume per la densità quindi se parto dalla massa e dal volume posso ricavare la densità dividendoli ma se parto dal volume e dalla densità posso ricavare la massa moltiplicandoli e l'unica cosa che a questo punto ci rimane a trovare se non ce l'ho è il volume possiamo comodamente partire da questa espressione vediamo che il volume per la densità è uguale alla massa quindi basta dividere per la densità se divido per la densità la densità si cancella però devo dividere anche dall'altra parte dell'uguale giusto? quindi il volume facilmente viene fuori che è la massa diviso la densità quindi ho l'equazione per il volume l'equazione per la massa e l'equazione per la densità tutte a partire da una sola formula non ho mai bisogno di ricordarmi tre formule di fare uno sforzo inutile di memoria quando posso ricordarmene una solamente e ricavare tutte le altre il tempo è l'ultima delle grandezze fisiche che viene presentata dal vostro libro ricordatevi anche questo l'abbiamo già visto nelle ore di scienze alla particolarità che i multipli del secondo non seguono il sistema metrico decimale i sottomultipli si un secondo devo fare per 10 viene 10 decimi di secondo se faccio per 10 ottengo 100 centesimi di secondo e così via ma se invece vado proseguo per la strada per la strada dei multipli devo ricordarmi che sono 60 secondi a costituire un minuto e sono 60 minuti a costituire un'ora h dall'inglese hour e sono 24 ore a costituire un giorno che si può scrivere si può scrivere g oppure d dall'inglese day se quindi voglio trovare per esempio quanti secondi stanno in un'ora dovrò moltiplicare il numero di secondi che sono in un minuto per il numero di minuti che stanno in un'ora 60 per 60 sono 3600 se moltiplico 3600 per il numero di ore che stanno in un giorno trovo il numero di secondi che stanno in un giorno quindi 24 per 3600 e con la parte delle unità di misura abbiamo finito che stanno